Musica Salve a tutti a Shirini e Shirini e benvenuti in una nuova puntata di Shiras Corner Il mondo di Sailor Moon è varissimo, penso che sia uno dei merchandising più proliferi Ormai producono qualsiasi cosa, dall'oggetto più utile a quello più scrauso e inutile E con la puntata di oggi continueremo a vedere uno degli oggetti, anzi una serie, una produzione che ha colpito nel profondo tutti i fans Sto parlando delle Figures Zero di Sailor Moon Crystal Nelle puntate precedenti avevamo visto già nel dettaglio le nostre prime due protagoniste, ossia Usagi e Amy E potete trovare qui sopra nelle informazioni e qui sotto nell'info box i link alla playlist e alle varie recensioni E oggi vedremo nel dettaglio la nostra magnifica Rei La nostra protagonista, alta di circa 20 cm e prodotta dalla Bandai, è stata acquistata su Unbiki Japan A un prezzo di 50€, escluso le spese di spedizione Con le spese ci troviamo intorno ai 57€ Purtroppo il prezzo sta aumentando sempre di più Perché, mamma Bandai, ha capito che tirano tantissimo e ovviamente ci deve guadagnare In compenso, posso dire che nonostante il prezzo così elevato Ci troviamo dinnanzi a delle riproduzioni davvero eccezionali Ecco la box della nostra splendida Figures Zero Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Magnifica, ho apprezzato tantissimo il gioco di colore sia dei capelli che dell'uniforme. Quell'effetto lucido mi ha fatto impazzire. E poi ammetto che la posa è davvero pazzesca. Qui vado proprio tranquillo, vado sul liscio. Perché se dovessi dare un voto oggettivo a questa meraviglia, considerando i pro e i contro, sicuramente darei un 9 pieno. Allora, partiamo dal principio. La posa è magnifica. L'effetto lucido sull'action figure è pazzesco. I colori, le sfumature dei capelli, proprio ciaone, è magnifica. Gli unici, magari, aspetti negativi sono il prezzo, che è un po' troppo elevato, e la base, che secondo me è un po' troppo minima per quanto riguarda questa action figure. Perché è davvero maestosa. Una base un po' troppo semplice, secondo me è un po' smorta tutto. Quindi fatemi sapere sempre qui sotto nei commenti che cosa venne sembrata della nostra Rei, se vi è piaciuta, se non vi è piaciuta, e soprattutto perché in merito a questo vi annuncio che poi prossimamente usciranno tutte le altre figures zero della nostra Minako e della nostra Makoto. E vi consiglio anche di continuare a seguire su Facebook, su Instagram e su Twitter, perché poi successivamente continuerò a mettere tutti i vari pre-order in merito. Per ora è tutto, ma solo per ora, Asura e Rei vi salutano e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Yeah!